Salve a tutti ragazzi, in questo piccolissimo video andiamo a vedere come poter accorciare un URL molto lungo infatti in molti siti avremo degli URL molto lunghi e se noi magari dobbiamo dare un link a un nostro amico o magari lo dobbiamo mettere sullo stesso Twitter dove il massimo di caratteri possiamo aggiungere è 140 allora molto utile è il procedimento che serve per accorciare questo URL senza che appunto la pagina venga modificata esistono vari modi su internet per accorciare il proprio URL di un link e appunto non abbiamo bisogno di programmi ma solamente di siti secondo me i più utili, semplici e veloci sono due che adesso vi farò vedere andando prima su Google e scriviamo prima quello che secondo me è più utile che si chiama appunto Bitly dove il link sarà in descrizione clicchiamo sul primo link che è appunto bitly.com allora, ad esempio io adesso ho incollato questo URL che è enorme di una pagina a casa che ho trovato su internet e adesso lo andiamo ad accorciare cosa dobbiamo fare, clicchiamo appunto il nostro link qua, lo incolliamo e clicchiamo su Shorter e qui appunto ci sarà il nostro link molto più piccolo clicchiamo su Copy, apriamo una nuova pagina se noi lo andiamo ad incollare vedremo che appunto si aprirà la pagina con l'URL iniziale che è un punto molto lungo quindi appunto noi avremo adesso l'URL molto più piccolo oppure il secondo modo molto efficace appunto proposto dallo stesso Google è Google URL clicchiamo sul primo link che ci apparirà e appunto si chiama Google URL Shorter anche questo sarà il link in descrizione e appunto incolliamo il nostro link iniziale aspettate che lo devo andare a prendere lo incolliamo e clicchiamo su Shorter URL qui dobbiamo completare il capta che sarebbe il codice di sicurezza facciamo Verify e quindi appunto Google ci avrà creato il nostro URL molto più corto lo andiamo ad incollare e vedremo che appunto si aprirà la pagina iniziale il mio video è finito qui un pollice in su se vi è stato utile iscrivetevi al mio canale per nuovi video tutorial e altri video ciao a tutti e alla prossima ciao ciao